Buongiorno, commento... io vado via da una parte contento perché abbiamo fatto partita, bravi sotto gestione, abbiamo creato veramente tantissimo, non dispiace per il gol dopo due minuti a freddo, diciamo che paghiamo una partita con due episodi, poi secondo me se c'è una squadra in campo che doveva vincere, abbiamo veramente avuto dominio, con un campo bello la qualità della squadra esce, noi siamo stati bravi a avere pazienza sulla gestione, è il momento di andare a riempirellare siamo andati a riempire, ci è mancata la qualità nel finalizzare, però cosa gli posso dire a questi ragazzi, di come stiamo lavorando in settimana, questo si è vista la domenica, il problema è che sono dispiaciuto per loro che meritano questa vittoria. Ce l'abbiamo messa tutta, è successo praticamente tutto in questa partita, non è stata sicuramente una partita facile, loro molto compatte, una squadra molto fisica, però non posso dire nulla riguardo alla prestazione perché abbiamo dato veramente tutto, poi non voglio parlare di episodi, sicuramente abbiamo finito il spogliatoio, non potevamo che farci lo stesso complimenti perché la prestazione è già stata.